La stagione balneare La stagione balneare La stagione balneare La stagione balneare In maniera ufficiosa ci rispondono sempre che partirà al più presto, ovviamente il problema della pulizia delle spiagge è legato anche alla ditta che dovrà operare, quindi siamo con un punto interrogativo grande e gigantesco perché non sappiamo quale sia la ditta o la vecchia ditta o la nuova ditta in base al nuovo progetto, bando relativo alla raccolta di fiori di soldi urbani. Grazie